Salvello scendere le altezze precipitiamo nel tempo, in un buco temporale che si può operare, è Romano, è Salvello, è Chiuso. Allora, presenti? Sì, allora, io sono Romano e il padre della famiglia Romano, ci tengo a dire questo perché dietro a Romano c'è una famiglia, c'è una tradizione, c'è anche un territorio, è un romanzo antico, noi siamo in Campania, non siamo a Romano, e il romanzo è pieno, è un romanzo antico, noi siamo in Campania, non siamo a Romano, e il romanzo è pieno, è un tipo di conservazione, in questi occhi, che arriviamo davanti, o meglio, il romanzo di ventura, noi abbiamo 200 ventura e 400 metri, il ventura del mare, siamo nell'alto organizzando. Ebbene, questi 200 venturi ci sono state, l'alto di solare, l'alto di uno, che, l'alto di una cagliace, quindi con l'alto animale, l'alto di un carico, e a quel punto andiamo a mettere le tuccelle di classico, anche se per fortuna, ultimamente, abbiamo avuto la deloca per riutilizzare le tuccelle di mini, come quelle del anno. A quel punto sta la tucca, il romanzo, e poi viene lanciato proprio come la personale che sta dietro a me, l'aveva lasciata a casa, ma non qualche fa, e mamma, come vedete, in questa, quello che ho veduto a noi, che la vedete un po' spesiva, ebbene, ce l'alza alla tucca, e poi a quel punto, dopo 24 ore, viene salata anche l'altra parte. Tutte queste cagliace vengono poi poste in un casale, che è un mobile di faggio a peso, protetto da una rete metallica, dove avviene l'essitazione, l'asciugatura lo ha detto un anno stesso, 10-20 giorni, dipende un po' dalla temperatura, e a quel punto tutte queste cagliace secche vengono lavate con l'acqua ben natura, con la pasta fatica, sarebbe l'acqua. Allora, c'è la gente, la piccola, la piccola di mattina, vi domanderebbe, ma quanta pasta mangiava? Noi abbiamo capito di fare, quindi non c'è la pasta, per il caso, per il caso, per il caso, per il caso. Allora, in tutto questo, ora andiamo lavata tutte queste cagliace, e poi le lanciamo a asciugare su un panno di tina. A quel punto, una volta asciugate anche queste cagliace, le immergeranno in queste ampi, questo è un'unica presentativa, in particolare, sono molto più ampi, volta che c'è anche vengono, dove riempiamo fino all'estremità, e andiamo appunti in greco della pancia, con un po' di olio e questa vegete di oliva, di varietà grazzana, un po' di grasa tecchica, che è un bichigno topo, proprio nella nostra zona dell'Afica del Tano, un po' di demeroncino tritato, e in puntata si chiama la pietra, ma sarebbe il minimo semplice. A quel punto, partiamo bene con il tappo di sughero, in modo che la mente rimanga senza ossigeno, quindi l'ambiente ha l'eropo, un po' come, un'altra cosa, e ogni 25 giorni, più o meno, andiamo a fare delle rotazioni, in modo che il liquido che si è ritornato alla base, andiamo a bagnare le cagliace che sono con le stesse stupute. Questo va da un periodo di 6 mesi, fino a 24 mesi, quello di oggi, 8 mesi, ed è il periodo di più e più liberato, perché se più giovane diventano più semplice, se più stagionato, diventano addirittura più che uso. Non ci arriva quasi quasi a 24 mesi, perché la produzione è limitata, se non è soltanto, se non c'è anche l'Apno. E quindi, ecco perché i 24 mesi, o la lonti, o la lonti. Io ho già già un altro anno e mezzo, sono un po' di nuovo, ragazzi. Ho fatto qualche scelta di giorni per essere qui, e mi è emozionato ogni storia di questi ragazzi, perché questa è la storia di quest'Italia, l'Italia che mi sta sempre un po' all'esterno, come strattata e altre cose che sappiamo. Quindi invece, quando tornate a casa, tutti voi che siete anche internazionali, portate questo messaggio che speraccio, questo messaggio positivo, che grazie a SoloMood, oggi noi qui possiamo testimoniarci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. per il suo sogno in cui si tratta come si tracciava un po' su tutte le parti Siamo tutti ci ha dato una grandissima mamma e la forza che le donne ci sta portando avanti perché con la mamma c'è una fortuna di avere anche una moglie che è vicina, che fa anche la casata, fa la polga che fa anche l'ottima mamma, che è un figlio bellissimo e quindi ci teniamo a dire questo Allora possiamo arrivare un po' al centro-sud l'Italia è una scuola e grazie 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 A un certo punto sembra quasi l'artifrezzamento del vino, ma al finale è sempre meno un'emozione del caso. E il formaggio vince, questa è la tutta età, il cino e il cino, il cino è un po' di impegno. E poi è impossibile, se non vedi le quattro!